E bella a tutti ragazzi, benvenuti in un mio nuovo video. Io sono Marilena, la cucina di Constantin Gamer. Sì ragazzi, oggi noi faremo un ASMR su Fortnite, mentre io giocherò e lei farà dei suoni con vari oggetti. Cominciamo! Bye! Ragazzi, lasciate un bel mi piace per questo video. Perché a 10 like faremo un altro video ASMR. Vero? E così! Vi farò adesso sentire dei suoni con la tastiera. Marilena, vai con gli oggetti! Devo stare super abbassato! Ferma, se no ho un'idea! Sì, si sente, ma aspetta un secondo, metto le cuffie qui dentro! Beh, sì! Grazie per la visione ma perchè ridi? ma perchè ridi? non sto facendo babbo da sauro diceva? yes bene sauro? bene questa parte la sa lì? ehm lasciamo tutto da ragazzi se voi non capirete un cazzo però va bene vai noi cominciamo con questo smr eccomi scusate ma si sente mia mamma smr ragazzi sentite questo suono sentite ferma 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 ma si sente? si fra si sente? ok ferma scusate per il suono spiglare 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 Ragazzi ho trovato un'arma quantica Martello di terra Ma quanto durerà questa live? Ma non è una live, è un video Cosa? È un video È un video, Marilena E continua pure a fare i suoni Ok, scopri venuta Ok, scopri venuta Ok, scopri venuta Sì, sì, ti sentono Ragazzi, se non la avete ancora fatto, lasciate un bel pollicione in su Sì, ragazzi Ma almeno un pochino ti metti in un palazzo, vero? Ma perché? Non lo so No, per niente Ragazzi, ragazzi Io vi ferro troppo Ora mi trovo una spuntura Ok, ragazzi Pinoleasi sono io Minchia, una donna, un'allena no taxi ragazzi sono ritornata ok perfetto mi sentite vero? mi sentono alla perfezione vai vai continua continuo continua aspettate un attimo ok 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 vai prova a parlare prova a parlare ok vabbè ragazzi finora che ci sono io aspettiamo il suo ritorno vabbè proviamo a andare in questo tilt allora ragazzi siamo saltati nel drift e ora stiamo andando ragazzi non so perché anche sulla chiamata vai parla ti sentiamo chi ne è? si si ti sentiamo vai ma mi fa anche sfrigoli di mano magari vabbè non so, ma si sentiamo ma non so, ma non so, ma non so, ma non so ragazzi ricordo di passare anche dal canale di mia cucina che lo lascerò in descrizione grazie vai odio mi sparano mi stanno sparando dietro sono uno scasso guarda vai vai Parla, parla, non ci sento Però non sai, non vero Parla, parla, non ci sento Parla, parla, non ci sento 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 Parla, non ci sento